In una lettera scritta in data 28 febbraio del 1915 a Raffelina Cerasse, Padre Pio scrive quanto segue. Ciò che produce tanta desolazione nel vostro spirito, la, è una grazia di Dio, è una grazia singolarissima, che il Dio concede a quelle anime soltanto che vuole inalzare alla unione mistica. È proprio così, mia cara Raffelina. Lo spavento e il terrore che tale grazia arreca alla povera anima, se mal non mi appongo, la va in questo modo. Tale grazia è una luce semplicissima e superlativamente splendida e chiara, la quale nell'investire che fa in principio la povera anima, trovandola indisposta, è male adatta a poterla ricevere. Le produce appunto quello che in voi stessa si sta svolgendo al presente. Per darvene una prova, o meglio una similitudine, che del resto non ha nulla a che fare con la cosa in argomento, chiamo la vostra intelligenza su di un individuo affetto da una malattia agli occhi. Questo individuo nel guardare la luce ne soffre e sarebbe in sul punto di accusare il sole come nemico dell'occhio. Ora ditemi un po', il sole per il buon senso universale. Tutti il preferiscono alle tenebre. Tutti dicono che il sole è buono, è ottimo, eppure chi è ammalato di occhi preferisce le tenebre e la luce al sole e sarebbe quasi tentato ad accusare il sole come un suo capitale nemico. Concludo quindi che lo stesso avviene qui per l'anima, che viene investita da una sifratta luce. Ella si trova quasi inferma e indisposta del tutto a poter ricevere questo sifratto lume supernaturale. E quindi la poverina assalita da questa luce prova terrore e spavento nell'anima e nelle sue potenze, memoria, intelletto, volontà ed indirettamente simili terrore e spaventi vengono ad essere risentiti anche nei sensi interni del corpo. Ma quando poi l'anima mano a mano si va guarendo della sua indisposizione, incomincia a tosto a sentire salutari effetti di questa nuova grazia. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.